Pioggia in pianura ma poca e nevi in alto piano ma davvero pochissima. Si esaurisce così con pochi millimetri di precipitazioni e qualche fiocco sopra i 1300 metri di quota la perturbazione annunciata sul Bassanese e sui rilievi per questi giorni. Piovaschi e temporali veri e propri non ce ne sono stati e la pioggia è caduta a macchia di leopardo e mai per periodi abbastanza lunghi da dare una risposta alla devastante siccità di questo 2023. Nella Pedemontana sono stati superati 10 millimetri in molte zone ma l'agricoltura sperava in qualcosa di più. La neve invece si è fatta viva sul Verena dove ha coperto la coltre bianca degli ultimi giorni con qualche spolverata a Campomulo sull'Ortigara e sui rilievi più alti del comprensorio. Il meteo annuncia tempo instabile fino all'inizio della settimana prossima con temperature minime al di sotto dello zero anche nei paesi dell'altopiano dove il gelo primaverile si farà sentire per qualche giorno ancora. Decisamente più miti le minime in pianura dove le massime supereranno i 20 gradi e dove arriverà qualche pioggia.